Il Covid continua a rendere difficile lo svolgimento dell'attività didattica nel Sannio. Nelle ultime ore il sindaco del comune di Paduli, Domenico Vessichelli, ha ordinato lo stop alle lezioni in presenza per la positività di un insegnante. Interruzione che proseguirà fino a sabato, situazione analoga anche nei comuni di Sallora, Enzo Maggiore, Cerreto Sanita e in alcune classi degli istituti di Benevento. E preoccupa l'aumento dei casi positivi e dei ricoveri, come puntualizza anche l'assessore alle politiche sanitarie del comune di Benevento, Alessandro Rosa. Purtroppo c'è un incremento del numero di accessi ospedalieri per questa problematica. Sicuramente come occupazione di posti letto non stanno aumentando, però il virus sta continuando a circolare. La cosa che ci aiuta è il fatto che se un paziente già vaccinato contrae il virus, il suo corpo risponderà in maniera differente, quindi il severi discorso della patologia risulterà solitamente più basso. Quindi a volte capita che questi pazienti positivi poi possono essere dimessi e continuano la terapia domiciliare, in virtù del fatto che magari la polmonite interstiziale non ha fatto danni a livello parenchimale polmonare. L'attenzione è tutta per la campagna vaccinale, mentre Bumo per le prenotazioni delle dosi booster sono ancora poche. Invece le iscrizioni per i bambini dei 5 agli 11 anni, per loro la campagna di immunizzazione prenderà il via domani. L'invito è alla prudenza, dobbiamo capire che la problematica non si è risolta ancora. È importante vaccinare, adesso dobbiamo spingere l'acceleratore anche sui bambini.